Roma oggi invasa dai trattori con la manifestazione del cra agricoltori traditi a Circo Massimo e quella di Altra Agricoltura e Popolo Produttivo in Piazza del Campidoglio. Un corteo con una rappresentanza di trattori è partito nel primo pomeriggio dal presidio di Cecchina, sfilando scortato dalle forze dell'ordine fino al Circo Massimo per la manifestazione che ha preso il via alle 15. Te lo do io al Made in Italy è lo slogan della mobilitazione, anticipata da un volantinaggio davanti a Colosseo. Nove i punti della piattaforma unitaria già inviata a Parlamento e Governo hanno spiegato gli organizzatori cui sono stati chiesti incontri per poterne rappresentare le richieste. La cosa chiara e certa è che si apre un confronto su misure urgenti, ma non ci servono contentini, ci servono riforme, ridare dignità agli agricoltori, agli artigiani, pescatori, alle città e alle comunità. Ha sottolineato in particolare il presidente di Altra Agricoltura Gianni Fabris, creato anche un nuovo presidio in città a Castel di Leva, dove nella notte sono arrivati circa 100 trattori.